Roberto D'Addario assieme a Marco Lo Giurato della società Extra Gold Vigilata Banca Italia hanno realizzato una pubblicazione che si intitola Proteggi il tuo patrimonio, una visione a 360 gradi sull'oro fisico da investimento. Una pubblicazione D'Addario che vuole offrire un codice interpretativo sull'oro proprio nei suoi termini di investimenti tra vantaggi, rischi e quant'altro. Assolutamente sì Daniele perché l'idea della pubblicazione è nata dal fatto che l'oro se tu ci pensi è conosciuto da tutti, cioè dal bambino di tre anni fino ad arrivare poi dopo alle persone più anziane. Però quando si parla di oro tendenzialmente non viene mai contemplato come asset per gli investimenti invece è un modo diverso di poter diversificare, è un modo per poter diversificare il patrimonio utilizzando uno strumento che comunque nel tempo, nell'arco dei secoli ha mantenuto il suo valore. Da qui è nata l'idea del libro partendo proprio da come l'oro si è arrivato sulla terra, quindi proprio da quello che è stata la sua storia, come ha conservato il suo valore, quali sono state le caratteristiche, quali sono le caratteristiche tecniche che lo rendono un materiale unico fino ad arrivare poi dopo alle implementazioni di investimento che possono essere utilizzate sia per i privati ma anche in ambito aziendale, per la gestione del trattamento di fine rapporto e il trattamento di fine mandato degli amministratori. L'oro è un metallo prezioso che ha una storia millenaria, ma nel 2024 perché ha una sua specificità di investimento particolare? Beh, allora, quello che possiamo sicuramente dire è il fatto che l'oro, a differenza di tutti gli altri investimenti finanziari a cui, ahimè, ultimamente siamo stati abituati a vedere, ha una caratteristica unica che è quella che non può fallire. Inoltre, acquistando il materiale fisico, e qui evidentemente parliamo di oro da investimento e non oro utilizzato per i gioielli che è un altro tipo di mercato. Il proprietario è l'investitore, al 100% l'investitore, quindi non stiamo comprando un pezzo di carta come un'obbligazione, come un titolo di Stato piuttosto che un'azione, ma compriamo proprio il materiale fisico. Ricordiamo per chi fosse interessato a questo tipo di argomentazioni, dove può essere reperita la pubblicazione e proteggi il tuo patrimonio? Allora, la pubblicazione è possibile acquistarla attraverso Amazon, oppure per chi vuole stiamo proponendo l'opportunità di poterci incontrare e in fase di incontro andremo ad omaggiare la persona interessata al nostro libro. Ricordiamo dove sul territorio pesarese e limitrofo si trova Extra Gold? Ci sono diversi uffici, in particolare abbiamo un ufficio a Pesaro, in via Belgioioso, e per tutte le altre sedi è possibile andare sul sito leaderinvest.it per poter vedere quali sono gli altri consulenti sul territorio che è possibile incontrare.